C'è anche Piacenza tra le 25 città italiane che partecipano alla prima edizione della campagna informativa Punto nel Vivo che ha l'obiettivo di far conoscere ai cittadini l'esistenza, le caratteristiche e le terapie delle reazioni allergiche da punture di menotteri tra i quali le api, le vespe e i calabroni. Sono oltre 5 milioni gli italiani che ogni anno vengono punti, spiega la dottoressa Eleonora Savi, primario di allergologia e si stima che l'allergia al veleno di menotteri possa provocare reazioni localizzate o severe reazioni sistemiche di tipo respiratorio e cardiocircolatorio che si possono anche complicare fino alla morte. Sono infatti una decina i casi all'anno accertati in Italia. I soggetti più a rischio sono gli anziani e i cardiopatici che assumono farmaci vasodilatatori i quali riducono la possibilità di recupero in caso di shock anafilattico. Ma questa allergia, aggiunge l'esperta, non deve essere sottovalutata dai più giovani anche loro, se fortemente allergici, possono andare incontro ad uno shock anafilattico. Per tutti i mesi estivi, quindi, verranno diffusi in oltre 150 pronto soccorso italiani, compreso quello di Piacenza, materiali informativi sull'allergia al veleno di menotteri. Se consideriamo tutte le reazioni allergiche più gravi che arrivano al pronto soccorso di Piacenza, aggiunge la dottoressa Savi, una quota considerevole che può arrivare fino al 50% è causata dal veleno di menotteri. Vanno dunque tenuti comportamenti adeguati con questi piccoli insetti, soprattutto bisogna ricordare che sono le vespe quelli più aggressivi, mentre le api del miele sono scarsamente aggressive e di solito vengono punti gli apicoltori quando smielano e quindi le disturbano.